Roma, ci sono casi di accaparramento nei supermercati, che insomma qui vedete un supermercato praticamente diciamo quasi saccheggiato, vuoto, svuotato in molti dei suoi ripiani, ma non c'è nessuna emergenza alimentare, questo dobbiamo dirlo e lo dobbiamo gridare con forza, gli accorgimenti sono quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fate attenzione, pulite le mani, ma non accaparrate i geni di prima necessità alimentari al supermercato, questa è anche una vignetta diffusa sul web che noi vediamo, anche i vignettisti ci aiutano, vedete sono quattro le mosse contro il virus, sui colpi di tosse, sul lavarsi le mani, sul soffiarsi il naso e gettare i fazzoletti e mai mani in bocca nel naso e negli occhi, smettetela con quella mania di mordervi e mangiarvi le unghie, questo se volete è l'avvertimento finale di tutta questa vicenda.